Ricorda la natura della forza e saperne a ogni cosa dal più piccolo dei frammenti al più grande dei soli. La sua essenza è divisa in parti uguali, in buio e in luce. Maestro Sorran, il consiglio è turbato. Questa ricerca dura ormai da venti cicli e non ha portato a nulla. Lo farà presto, il tempio di Eron è vicino. Il tempio di Eron è un mito. Avete sprecato la vita per un'ossessione. Gli Eroniani conoscevano la forza più di noi. È nostro dovere apprenderne i segreti. Questa è l'ultima missione archeologica della Kobega. Poi sarà riassegnata a scopi militari. Troverò la strada per Eron e vi dimostrerò che sbagliate. Eroniani conoscevano la forza più di noi. Maestro, l'abbiamo trovata. Ci avete trascinati qui per questo? Un altro relitto inutile? No, generale. Questa volta ci siamo. Siamo certi che sia la Resurrection. La nave del secondo guardiano di Ero. Sì, amico mio. Non ci sono più dubbi ormai. Maestro, l'orbita del relitto sta collassando. Com'è possibile? Proprio adesso? L'arrivo della nostra nave ha mutato l'entropia del sistema. Siamo stati noi. La vostra innettitudine è inaccettabile, generale. Non potevo prevederlo. Mi auguro non vagliate a bordare. Siamo qui per questo. È troppo pericoloso. Il Consiglio non approverà mai. Inutile avvertire il Consiglio. Che cosa facciamo? Entriamo. La venta Kirlan. Scudo deflettore abbassato. Autorizzazione a lancio ha consentito. Autorizzazione a lancio. Maestro, attivo i deflettori anteriori. C'è qualche frammento? Sì. Gli ho visti. Gli ho visti. Gash, ma che fai? L'anello magnetico si è mosso. Non va. Dovresti sbarazzarti di quel rottame. Pensa agli affari tuoi. Qui le pareti sono più sottili. Possiamo penetrarle. Ecco, ci sono due convergenze di energia. saranno 1800 par. Uno di questi punti potrebbe essere la plancia. Perfetto. Abbordiamo una zona a metà strada e ci dividiamo. problemi? No. È tutto perfetto. perché? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I respiratori non servono. Potete entrare. Toro, mi ricevi? Sì, maestro. Stiamo entrando ora. Io proseguo verso la prua. Sai quello che dovete fare? Faremo rapporto non appena troveremo qualcosa. E speriamo di trovarlo qualcosa. Somiglia tanto alla solita... Passeggiata nel relitto vuoto. Il consiglio ha ricevuto il rapporto, generale. Hanno risposto? Sì, signora. Chiedono di parlare con Sorra, immediatamente dopo il suo rientro. Non segue mai la procedura. Mi auguro per lui che tutto vada bene. Certo che è strano qua dentro. La struttura portante è biologica. Gli aero usavano materia organica per costruire le loro navi. Qui il problema non è trovare la plancia. È capire che è una plancia. Figura di usarne i comandi. Il maestro Sorran conosce perfettamente la cultura... è un problema. Grazie a tutti. Maestro, c'è qualcosa di strano qui. Stai percependo ombre dal passato? Ne sono certo. C'è qualcosa di... vivo. La vita ha lasciato questo luogo da migliaia di anni ormai. La vita ha lasciato questo luogo. La vita ha lasciato questo luogo. La vita ha lasciato questo luogo. Generale, la nave si sta muovendo. Il maestro Soran ha riattivato la propulsione. È incredibile. La prua sta ruotando verso di noi. Avrebbe dovuto fare rapporto prima di iniziare il recupero. Attiviamo gli scudi per sicurezza. Qualche frammento di quel relito potrebbe colpirci. Guarda e marina, attivare gli scudi. Signor Sì. Inizio attivazione scudi. Scudi al 30%. Scudi al 70%. Scudi attivati. Scudi al 70% Ma che succede? Succede che questo affare sta precipitando. Torniamo alla navetta? Smetti la Gash. È successo qualcosa. Lo sento. Abbiamo compagnia. Uno solo. Vado io. Maestro. Abbiamo trovato qualcosa. Maestro. O forse... qualcosa ha trovato noi. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. No. 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 Oh 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 Da'iere Rombletz fuggir A quetzmatikum Ie undrer Yerde tostiyank Ecivitis Vesnokimi Eno stacca Veskishe Ossie Ur Derstae Potsoll Veselitis Veselitis Nega iurkorme Hinokimi Ersu Qua El Veselitis Hボ I Es C Veselitis 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! 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 No! Grazie a tutti! No! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Maestro! Tu potevi fermarli! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'impatto del relitto provocherà l'emissione violenta di magma nell'orbita. Salto a velocità luce. Inizio calcolo. Impossibile completare. Detriti nella zona di lancio. Deviazione energia da supporto vitale a motori. Attenzione! Dipressurizzazione cabina tra... Tre, due, uno. Supporto vitale disattivato. Comandi manuali online. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scansione ultimata. Nessuna capsula di salvataggio rilevata. Non sono presenti forme di vita tra i frammenti. Sono onorata di far parte dell'aspedizione maestra. Avete sprecato la vita per un'ossessione. Troverò la strada per Eranestro. Tu potevi fermarli. Grazie a tutti. Ogni attori di replicazione. Ogni atomo del tuo corpo sarà duplicato esattamente. La tua essenza si impossesserà di questi corpi. E tu potrai estendere la tua vita all'infinito. Fino al giorno in cui troverai Eranestro. E ne aprirai il sigillo. Saurav. 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 I've been a while I've blinded to the world Are you sure of your feelings Deceiving I've never felt I'm so grateful What have I become Digging my way Into darkness Can you tell me What have I become The time has come For you to let me run My last hope Is in myself Are you sure of your feelings Deceiving I've never felt To follow I'm so grateful I'm so grateful What have I become Deceiving my way What have I become I have become Here I am With my feelings Beating myself Sit on the shore Of what I am What have I become What have I become I have become Like this What have I become Like this For you to let me know I have become I am am I am What have I become I am I am I am Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...